Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi e sempre per il progetto Delivery Unit Nazionale. Oggi si occuperà sempre del PNRR, ma parleremo di semplificazione amministrativa nell'ottica dell'attuazione del PNRR in tema di transizione energetica. La relatrice di oggi è l'architetto Liuzzo, alla quale chiedo di attivare la webcam e il microfono così da poterle passare la parola e avviare i lavori della giornata. Buongiorno, aspetto il suo buongiorno per accertarmi che tutto funzioni. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, vi ricordo che potete usare la chat per scrivere le vostre domande, per lasciare le vostre domande, ma anche per lasciare le vostre riflessioni o partecipare ai lavori della giornata e comunicare con la relatrice. Per quanto riguarda le domande vi invito a scriverle da subito, dal primo momento. Riserveremo l'ultimo quarto d'ora della presentazione alle risposte, ma se ci sono ovviamente necessità di chiarimento, bisogni particolari, scrivete così poi la relatrice avrà modo di guardare le vostre osservazioni. Io resto in back, scrivete nella chat e se non ci sono problemi ci vediamo in chiusura. Buon lavoro. Buongiorno a tutti di nuovo, grazie per la partecipazione. Oggi sarà una giornata intensa, purtroppo per colpa mia, ma perché la complessità, la portata e il livello delle trasformazioni in atto stanno potentemente accelerando le procedure, le tecniche, i metodi che sono i rimedi per semplificare e per raggiungere appunto l'obiettivo della transizione energetica. Per avere un'idea di ciò che stiamo appunto oggi commentando insieme a voi, è necessario fare velocemente anche il contributo del webinar, ma anche delle slide a questo obiettivo, andare a inquadrare esattamente lo scenario, verificare appunto che si tratta di una rivoluzione energetica, ma una rivoluzione ecologica diciamo pari, almeno pari se non superiore a quella a cui il pianeta e soprattutto comunque il paese Italia e l'Europa hanno assistito nel ventennio appunto trentennio 50-80. Quindi noi stiamo andando a riassettare tutto il territorio, ma anche a riassettare tutte le infrastrutture sulla base di un cambiamento davvero epocale. Per cui per capire il contributo del PNRR, ma soprattutto per comprendere le tematiche in corso e quindi tutte le misure attivate e continuamente attivate dai DL per ottenere la semplificazione soprattutto in materia di transizione energetica, facciamo appunto una premessa e un focus che si rende appunto necessario per comprendere appunto articolo per articolo, procedura per procedura, cosa sta accadendo e cosa ci attende nei prossimi giorni. Lo scenario diciamo che ha supportato il PNRR è il piano nazionale integrato per l'energia e il clima. In questo piano che è stato varato nel 2020 e che già è in corso di trasformazione, adesso lo vedremo, e di implementazione, il piano è stato adottato appunto in attuazione del regolamento 1999 del 2018. È stato inviato all'Unione Europea e rispetto ai cosiddetti obiettivi e border sharing dell'Europa, vediamo sinteticamente in atto e in corso di trasformazione quali sono gli obiettivi e i fabbisogni del piano. Allora gli obiettivi sono sicuramente una percentuale di energia da ferro appunto da rinnovabili che vi ricordo appunto sono il fotovoltaico, l'eolico, la biomassa, tutto ciò che appunto è il concetto di rinnovabili e che ci porta a una progressiva indipendenza dalle fonti fossili e come consumi finali lordi senza una loro tipizzazione pari almeno al 30% in linea appunto con i paesi della UE. Però per quanto riguarda i consumi finali in energia noi abbiamo proposto, il PNIEC ha proposto una quota del 22% rispetto al 14% previsto all'Unione Europea, ciò anche nell'ottica di una progressiva tendenza all'autonomia energetica che sta diventando ed è attualmente un tema caldo visto appunto gli sviluppi anche dal punto di vista degli effetti della guerra in atto, quindi il raggiungimento dell'indipendenza si aggiunge all'obiettivo europeo quindi lo aumenta e lo amplifica perché appunto noi dobbiamo oltre a conseguire l'obiettivo della decarbonizzazione conseguire via via la trasformazione delle nostre infrastrutture e l'inserimento di nuove infrastrutture che chiaramente ci garantiscano questa indipendenza appunto energetica, scusate. L'altra riduzione riguarda appunto i consumi nei trasporti. Sappiamo benissimo che ai fini della sostenibilità e ai fini dell'obiettivo primario della decarbonizzazione l'impatto delle emissioni dei trasporti anche in termini di NOx o CO2 è elevato e allora sempre a fronte agli obiettivi europei la quota italiana eccede quasi il 10% dell'obiettivo europeo appunto tendendo a utilizzare un 43% a fronte quindi a raggiungere un 43% a fronte del 32,5% dell'Europa. E poi appunto la riduzione del gas serra rispetto al diciamo ai valori del 2005 questi sono gli scenari così detti di base con un obiettivo a questo punto in tutti i settori, quelli che abbiamo quindi fino ad oggi elencato, che sono anche appunto del 33%. Noi ci stiamo spingendo questa volta a favore di raggiungimento di una sostenibilità ambientale della transizione energetica con un 3% in più rispetto a quello che è previsto dall'UE. Sapete benissimo, se non lo sapete comunque potete approfondire che cosa si intende appunto un abbattimento netto, un abbattimento con compensazioni. E poi la fase veramente significativa e davvero di impatto rilevante sia dal punto di vista socio economico ma dal punto di vista anche delle trasformazioni in atto che è il cosiddetto phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025. Il phase out contempla quindi non solo nuovi interventi o nuovi impianti ma revamping, ristrutturazioni, trasformazioni che in atto comportano comunque la messa in campo di risorse economiche e ambientali non indifferenti. E questo lo scenario PNIEC 2020 ad oggi vigente. In realtà però già nel momento in cui questo piano appunto che integra l'efficienza energetica con il clima che abbiamo visto, con l'abbattimento quindi dell'impatto sull'atmosfera, già cominciava ad essere messo comunque in discussione sugli obiettivi a un quanto meno in discussione perché nel frattempo purtroppo come sapete nello stesso anno entriamo in fase pandemica e quindi tutto il ragionamento fatto sulla sostenibilità e sull'indipendenza appunto e sull'autonomia energetica diventa sempre più cogente e più significativo perché appunto comunque c'è stata una problematica appunto socio-economica derivante dall'effetto Covid. Quindi sia la nuova programmazione europea, sia il Green Deal, sia i grandi, cinque grandi obiettivi della programmazione appunto 2021-2027, già al 2020-2021 cominciavano a far mettere appunto in discussione o in revisione comunque gli obiettivi delle PNIEC, soprattutto con l'avvento della strategia annuale e la crescita sostenibile del 2021 con la quale e per la quale il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato appunto il piano per la transizione ecologica, il cosiddetto PTE, che fornisce appunto un quadro delle politiche ambientali ed energetiche che poi vengono parallelamente focalizzate e delineate con il piano di ripresa e resilienza che vi ricordo appunto era stato esitato a fine 2020, poi a gennaio 2021 e poi finalmente approvato all'Unione Europea con la versione dell'agosto 2021 e questo l'abbiamo visto nella precedente comunicazione. Quindi cosa succede? Da una parte appunto una pianificazione che vedremo sosterrà tutto e sostiene tutto il PNRR e che quindi è quella che mette diciamo individuo i criteri, non solo quindi gli obiettivi ma anche i criteri e i metodi e le infrastrutture per raggiungere appunto l'attuazione, l'obiettivo dell'efficientamento energetico senza e con l'indipendenza dalle fonti fossili e dall'altro per scongiurare la velocizzazione dell'aumento delle temperature che sapete addirittura ai poli è di un grado ogni dieci anni, quindi sicuramente l'Italia insieme a tutti i paesi devono concorrere ad abbattere quantomeno mitigare gli effetti più disastrosi che come sapete sono le ondate di calore ad esempio o appunto le piogge sempre più improvvise e sempre più diciamo devastanti, quindi gli effetti anche di alluvionamento e di aumento del livello delle acque. Quindi questo l'innesto del piano della transizione energetica sta rimettendo come vediamo in corso d'opera, sta aggiornando tutti gli obiettivi del PNIEC, quindi con il target 2030 si attesta adesso su una quota di 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, quindi con una percentuale di riduzione che passa dal PNIEC 2020, 58 e 54 a quasi il doppio possiamo dire, a 103 e 13, quindi accelerare il processo della decarbonizzazione in tutti i settori, quindi da quello appunto all'energia primaria, al residenziale, ai trasporti e a tutti i settori che sono comunque energivori. Tra parentesi uno dei settori energivori purtroppo rientra in uno degli obiettivi del PNRR perché la digitalizzazione ci stiamo accorgendo alla fine di tutto è diventato anche un settore significativamente energivoro comunque che incide anche sulle materie prime e sulle problematiche anche del sottosuolo, questo poi lo vedremo. Dopodiché l'innesto dell'obiettivo della transizione energetica ha messo in discussione l'altro obiettivo dell'EPNIEC che è per il quale la riduzione passa dell'energia primaria, parliamo, dal 43 al 45 per cento, sempre sulle stime Prime S 2007, ma la cosa più significativa è l'impegno che l'Italia ha assunto insieme agli altri paesi dell'Unione e non so se conoscete l'ultima mission di Horizon a cui hanno partecipato molte città italiane, molte città italiane si sono ben candidate per ottenere questo obiettivo significativo della dismissione dell'uso del carbone entro il 2025 che è davvero troppo troppo vicino, davvero troppo vicino e per il quale ora comprenderemo perché in atto vi sono misure criticabili, derogatorie che devono essere messe in atto per la semplificazione, perché siamo arrivati al limite, cioè se noi andiamo oltre al 2025 il nostro contributo, come quello di tutti i paesi dell'Unione e diciamo del pianeta, sarà vano e non arriverà a mitigare o comunque a scongiurare gli effetti disastrosi dell'aumento delle temperature. Quindi dobbiamo il phase out entro il 2025, entro il 2030 appunto il 72 per cento deve provenire dell'energia dalle fonti rinnovabili e addirittura con l'obiettivo ambizioso tra meno di 30 anni nel 2050 attestarsi al 95 e 100 per cento, quindi è davvero come dicevo in premessa una trasformazione epocale che per l'Italia che ha una superficie relativa di trasformazione molto diciamo più piccola se ci pensate, di paesi come la Francia, la Spagna, quindi con territori che possono essere utilizzati e con impiantistica o aree, perché adesso vedremo la problematica delle aree e non è, certo è un bel impatto dal punto di vista del paesaggio e dell'ambiente. Dopodiché il problema di andare a ridurre le importazioni, quindi di conseguire la nostra bella autonomia energetica che sappiamo, abbiamo appena visto e vediamo, siamo purtroppo anche noi coinvolti in questa guerra da tutti i punti di vista e stiamo seguendo le vicende che riguardano appunto la distribuzione e la provenienza del nostro gas che appunto è, proviene appunto dalla produzione sovietica e scusate russa e quindi anche questo è un tema che sta accelerando prepotentemente non solo l'emissione dei DL, ne abbiamo uno, l'ultimo recente, l'hanno proposto qualche giorno fa il 2 maggio e lo vedremo, il cosiddetto DL aiuti, ma una progressiva trasformazione che sta comportando anche un tilt nelle amministrazioni che devono andare a gestire le procedure, ma che purtroppo è vincolata a questi impegni che sono impegni assolutamente da dovere assicurare. Dopodiché c'è il grande impegno sul solare fotovoltaico che secondo appunto le stime dovrebbe o potrebbe, diciamo potrebbe arrivare tra i 200 e i 300 gigawatt installati, immaginate che per un semplice solare di 100 ettari l'impegno sono almeno il doppio delle superfici, non contabilizzando poi gli impegni, diciamo gli sviluppi lineari appunto delle tratte, delle condotte, appunto dei cavidotti, quindi immaginate i 300 gigawatt installati in un periodo e in una superficie disponibile del territorio in questo breve tempo. E quindi questa, questa sfida che è la sfida sulla quale focalizzeremo maggiormente diciamo la nostra attenzione oggi, ma anche nel prossimo webinar quando ci occuperemo degli studi e delle valutazioni sugli impatti, immaginate che rispetto appunto al PNIEC abbiamo un'eccedenza di circa 22 gigawatt solari che risultano, che non dobbiamo tenere conto, scusate, di questi installati, appunto superiore ai 21 gigawatt solari che risultano operativi a fine 2020, quindi non solo obiettivo PNIEC, ma obiettivo candidabile appunto, candidabile raggiunto o raggiungibile appunto a fine 2020, quindi dieci volte in più la quota. Noi vi rimando ovviamente ai rapporti GSE, per capire comunque che da una parte sia il fotovoltaico e il solare, nonostante l'impatto delle istanze che arrivano a tutti i livelli, quindi sia alle commissioni ministeriali che alle commissioni regionali, nonostante appunto la domanda, le istanze, le procedure esitate, effettivamente non cresce con la velocità attesa. E adesso vedremo perché, perché probabilmente non cresce, ma non sono solo quelle le ragioni, e vedremo cosa sta facendo appunto lo stato italiano, affinché questa, diciamo, impiantistica da rinnovabile, più veloce, più fast da realizzare, in realtà, nonostante appunto le attese, gli obiettivi e le prospettive, cresce lentamente. E vi rimando, come ho messo, segnalato in questa slide, ai rapporti GSE. Noteremo una lieve crescita, una crescita maggiore, e per fortuna tra il 20 e il 2021. Ricordiamo che i rapporti GSE sono aggiornati fino al primo semestre 2021. Seguite il sito, perché appunto chi fa questo lavoro e chi appunto ha questi interessi, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista teorico, i rapporti GSE sono molto significativi. Il sito appunto dedicato al piano della transizione energetica appunto mette in luce, rispetto alla strategia di lungo termine, anche, diciamo, delle infrastrutture che hanno un loro impatto, ma la loro importanza strategica nel territorio, che sono quelli appunto i sistemi di accumulo elettrochimici, cioè 70-100 terabyte di energia accumulata, quindi con la capacità di 30-40 gigawatt di accumulo. E questo naturalmente è coerente e, diciamo, funzionale allo sviluppo delle tecnologie che abbiamo fino ad ora elencato. Dopodiché è il tema più importante sul quale si è spesa molta teoria, ma soprattutto si è tentato di agevolare e semplificare le procedure nel biennio appunto 2020-2022, che è il piano delle aree idonee. Il PNIEC appunto ha sollecitato, ma vedremo anche il DM 2010 sulle rinnovabili, delle localizzazioni alternative all'attuale prevalente localizzazione del fotovoltaico e dell'agrivoltaico, che è tipicamente la localizzazione agricola. Quindi quasi tutto il territorio agricolo è stato messo, diciamo, in gioco ad oggi, sulla base appunto delle istanze che sono pervenute. Altre aree che effettivamente risulterebbero già idonee nel DM 2010, ma anche nel PNIEC attuale, non sono state in qualche modo individuate né all'interno dei piani nazionali né all'interno dei piani regionali, laddove, tranne qualche rara eccezione, laddove sono solo stati individuati i criteri per l'individuazione delle aree idonee, quindi non siamo arrivati alla loro esatta localizzazione. Al di là di ciò che è avvenuto per l'eolico, ma lì c'era una problematica di vincoli paesaggistici che giustamente ha spinto la mappatura di queste aree idonee. Per il fotovoltaico e l'agrivoltaico, come vediamo, poche regioni hanno normato in tal senso, anche perché c'è stata una giurisprudenza pressoché costante che ha rilevato in alcuni casi eccesso di potere pianificatorio, ma questo poi lo vedremo in un'altra sede. Quindi l'aspetto, il focus più importante, sul quale sta lavorando tutta la macchina della semplificazione amministrativa, come vedremo, è appunto la tematica localizzativa. Localizzativa, la tematica del consumo o dell'occupazione di suolo, questi sono i grandi pilastri su cui sta ragionando la semplificazione, il fatto appunto che la popolazione ha percepisce, fino ad oggi ha percepito più favorevolmente un paesaggio anche agricolo abbandonato in luogo di un fotovoltaiceto, chiamiamolo così, quindi tutti questi elementi, che sono elementi importanti e che condizionano anche la valutazione ambientale, soprattutto nelle fasi di via in cui viene consultato il pubblico generico, oltre al pubblico interessato, tutti questi elementi adesso sono, come dire, sono confluiti e sono diventati dei nodi su cui lavorare, per cui adesso non è più rimandabile, come vedremo, la problematica delle aree idonee. Il piano delle aree idonee dovrà accogliere appunto impianti, appunto come leggiamo dal sito del piano della transizione energetica, che potrebbero estendersi approssimativamente tra, abbiamo visto, tra i 300 e i 450 mila ettari, quindi questo è importante, dove stanno? Stanno solo come fino ad oggi è stato fatto nelle aree agricole, oppure molto, si aspica molto più favorevolmente l'uso dei SIN, appunto dei siti di interesse nazionale, ovviamente bonificati, le aree industriali, le aree agricole abbandonate o contaminate, c'è un elenco possibile e immaginabile e comunque come aree cosiddette prioritarie, come aree escluse, già il DM del 2010, come vediamo, le ha dato un elenco e alcune regioni hanno chiaramente già normato all'interno pure degli stessi PEARS, quindi i piani per l'energia e l'ambiente regionale. Si ragiona ora non in termini di aree escluse o di aree comunque che possono essere compatibili, ma di aree da privilegiarsi in luogo o comunque in maniera gerarchicamente prevalente rispetto all'area o solo agricolo e questo è un tema su cui appunto l'attuale semplificazione, come vedremo, sta lavorando. La cosa importante è che tra tutti gli interessi in gioco, perché per la prima volta forse nella storia, tra gli interessi prevalenti in gioco non c'è soltanto lo sviluppo economico e l'ambiente to cure, tutto l'ambiente, quindi paesaggio, salute umana, biodiversità, acqua, aria eccetera, quindi non c'è un diciamo sul piatto della bilancia, c'è da una parte lo sviluppo e dall'altra l'ambiente. Ci sono due diritti sanciti e tutelati dalla Costituzione che sono appunto il diritto a godere di un clima e di un pianeta stabile, ok, perché questo è importante, il diritto a respirare un'aria, un'aria diciamo priva di inquinanti e di clima alteranti, perché l'aspetto delle emissioni inquinanti è un aspetto che in maniera palese incide direttamente sulla salute umana, quello delle CO2 incide su più settori della vita dell'uomo e su più aspetti ambientali, quindi la problematica su cui la semplificazione sta lavorando soprattutto per particolari classi di rinnovabili fotovoltaico e agrivoltaico è proprio questo, che gli interessi in gioco non sono lo sviluppo economico to cure classicamente inteso, ma sono appunto la salvaguardia e la tutela di aspetti molto importanti che attengono la salute dell'uomo e la stabilità del pianeta e dall'altra il diritto a godere di un paesaggio rassicurante, equilibrato e che comunque contemperi anche lo sviluppo e la tendenza comunque alle aree agricole a rimanere tali, quindi sia dal punto di vista rurale tradizionale, chiamiamolo così, sia dal punto di vista del paesaggio a livello di percezione e di rapporto appunto con di visibilità e intervisibilità. Immaginate appunto che cosa significa riempire con tutti questi pannelli, siano essi fissi, a terra, con i tracker monoassiali, agrivoltaici eccetera, però alla fine l'impatto, a parte poi altri impatti per esempio sulla vifauna, certo è un impatto decisivo e importante sul paesaggio, per cui è il momento di andare a selezionarle queste benedettere idonee, per assicurare questi giusti obiettivi che si è dato sia il PNIAC, sia il PTE, sia il PNRR, perché chiaramente questa dipendenza dal fossile e dal sottosuolo, dal carbonio eccetera, ha creato non solo problematiche di squilibrio e di disparità socio-economica, ma soprattutto effetti che non sono più impatti, ma sono effetti ambientali di lungo termine. E poi vedremo appunto l'intervento sulla mobilità sostenibile, gli interventi sugli edifici, gli interventi adesso vedremo proprio nelle stesse aree agricole, nelle aree appunto nel serricolo, nell'impiantistica agricola, questo fotovoltaico lo dobbiamo prevalentemente, il fotovoltaico che alimenta anche altre fonti appunto di energia, lo dobbiamo piazzare pressoché su tutto il territorio nazionale e questo è il tema più recente delle soluzioni, dei rimedi trovati dalla semplificazione amministrativa. E poi passaggio importante perché dobbiamo capire che oltre a questo rimedio per raggiungere indipendenza energetica più fast, più veloce, più facile da impiantare nel territorio, poi c'è un progredire, poi ci sono i combustibili rinnovabili appunto come l'idrogeno, la bioenergia, il biometano dei rifiuti che hanno una complessità anche impiantistica molto più, diciamo che comporta più tempi anche per la realizzazione fino a non mai scordato ma non mai dimenticato energia nucleare da fusione. Il PNRR ha messo anche a disposizione, anche poi vedremo la semplificazione, ma soprattutto in questa fase un'accelerazione della ricerca e come vedete anche se la realizzazione di impianti di energie nucleari appunto comporta un tempo maggiore rispetto ad attuare un impianto fotovoltaico non è un'opzione che è stata scartata nella nostra pianificazione energetica e quella che poi potrà come dire implicare tempi dai 5 ai 10 anni perché le centrali queste sono e avrà l'impatto su delle scorie, cose che noi sappiamo benissimo e per le quali l'Italia si è già in più occasioni espressa ma ritorna perché noi se non lo sapete ma lo sapete parte della nostra energia comunque derivata da altri paesi deriva dal nucleare. Quindi noi abbiamo una combinazione di dipendenza energetica che miscela varie fonti e che non sono tutte diciamo reperite nel nostro territorio. È chiaro che le scorte degli altri paesi in questo momento soprattutto anche per la guerra per l'aumento dei costi potrebbero ridurre il diciamo l'erogazione di questa di queste fonti energetiche per cui noi dobbiamo purtroppo in qualche modo non l'abbiamo fatto in questi ultimi vent'anni ed era possibile farlo, lo dobbiamo fare in meno di 3-5 anni. E quindi siamo alla missione 2 per la quale adesso andremo a vedere come si attiva tutta la semplificazione. La missione 2 che abbiamo visto l'altra volta in maniera breve soprattutto per gli effetti sulle procedure classiche appunto via, VAS eccetera è quella appunto della rivoluzione verde della transizione ecologica ed è articolata in 4 componenti. Abbiamo visto ovviamente queste componenti sono diciamo l'attuazione ecco le azioni e le misure attuative delle PNIEC e PTE per intenderci e quindi il PNRR ha individuato e classificato anche e poi ha varato gli investimenti e vedremo anche quelli che sono stati già attivati e che sono in corso e le relative procedure per arrivare al raggiungimento della spesa. Allora appunto la prima componente visto che comunque l'agricoltura è anche energivora ma è anche una delle componenti dei settori produttivi che diciamo produce molte emissioni di carbonio bisogna partire appunto ad incidere sui cambiamenti nell'agricoltura per concorrere agli obiettivi dell'economia circolare e quindi ci sono varie misure e azioni che sono previste dal PNRR per arrivare soprattutto ad avere il programma nazionale di gestione rifiuti che adesso sta facendo l'AS quindi sta per essere varato anche questo questo programma nazionale è stato varato in tempi molto brevi perché bisogna anche capire come dal rifiuto appunto come dall'età me nascono i fiori appunto dal rifiuto poi nasce l'energia e poi appunto la realizzazione di nuovi impianti gestione di rifiuti le isole verdi e quindi andiamo a vedere cosa cosa ci riserva questa questa componente di emissione poi c'è la 2 mc2 che è molto importante che quella su cui oggi faremo una riflessione maggiore appunto che sono le energie rinnovabili idrogeno e la mobilità sostenibile le reti sappiamo benissimo anche che le reti appunto di approvvigionamento idrico di distribuzione laddove hanno delle fallanze chiaramente implicano un dispendio energetico che non è più da consentire e quindi vedremo che comunque ci sono delle misure molto importanti appunto oltre a sviluppare la competitività dell'idrogeno che è quello su cui l'Italia sta lavorando in maniera quasi leader insieme ad altri paesi europei produzione e consumo di gas rinnovabili l'agrivoltaico il fotovoltaico e le isole verdi le isole verdi è una buona sperimentazione per l'autonomia energetica appunto di alcune isole che sono state prese come isole pilota e poi la componente più diretta all'efficientamento energetico che è la M2C3 che riguarda l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici sappiamo che c'è un patrimonio ingente sia pubblico che privato ma soprattutto pubblico da riqualificare sono edifici che hanno classi energetiche davvero bassissime alcuni sono stati diciamo migliorati appunto dal punto di vista della classe energetica però bisogna incidere anche con interventi di retrofitting cioè incidere proprio laddove non c'è una tutela diretta sul bene sul patrimonio sull'immobile che stiamo andando a rigenerare dal punto di vista energetico tutto il patrimonio dovrebbe essere messo a sistema nel giro di due tre anni ci sono delle misure e delle facilitazioni e investimenti che sono già in corso con il PNRR e quindi anche l'efficienza energetica ma anche la sicurezza degli edifici ma anche diciamo la capacità insieme alla rigenerazione urbana a rigenerare gli immobili che non sono edifici quindi le aree della città per favorire la decarbonizzazione abbattere quindi il contributo di impianti volti al appunto a garantire il clima indoor cosiddetto sempre stabile e al di sotto di certi valori a 18 di certi gradi sapete che ci sono delle misure in atto che addirittura per le infrastrutture pubbliche hanno fissato un limite appunto sia agli impianti di condizionamento con multe e con le sanzioni da applicarsi dopo di che appunto lo dicevamo in maniera chiara e proprio in maniera e quasi in maniera autonoma anzi in maniera assolutamente autonoma c'è una misura volta al risparmio della risorsa idrica che appunto comporta interventi anche sulle reti acquedottistiche. La componente di ritora sostenibile ed economia circolare è quella che abbiamo già visto all'inizio e intanto sta intervenendo sulla filiera agricola alimentare che sia più smart e sostenibile ma anche sulla tipizzazione di alcune produzioni quindi già diciamo che il governo ha intuito con il PNRR che se non si attivano dei combinati disposti di investimenti proprio sull'agricoltura l'agricoltura che è uno dei settori più energivori su quali bisogna anche incidere sarà con la sua impiantistica attuale sia la serricola che gli impianti oggetto delle facilitazioni e semplificazioni amministrative che vedremo tra poco che sono tra le più incisive ritrovate negli ultimi sei mesi. Vi scorro le slide perché sono di interesse appunto su quello che riguarda gli investimenti e le isole verdi che io ho preso a semplificazione per capire poi quali misure di facilitazione e di semplificazione si possono applicare e adesso le scorriamo e riusciamo a capire perché nelle isole verdi si concentra in luce diciamo nel piccolo e il grande di quello che c'è appunto nella missione 2 del PNRR. in sostanza ci sono 19 isole che sono state individuate come laboratorio alle quali si applicheranno appunto delle dedicate misure di semplificazione e servono a garantire l'autonomia energetica, l'efficienza dei sistemi messi in campo, l'infrastrutturazione soft perché molte isole tra l'altro sono interessate da una vincolistica importante quindi paesaggistica, ambientale eccetera e soprattutto andare a concentrare lì anche i sistemi di accumulo perché chiaramente non si può avere diciamo una buona gestione della politica energetica se insieme a una corretta e proficua generazione di energia poi non ci sia invece l'accumulo per i tempi più magri. Il bando si è appena chiuso a fine ad aprile appunto riguarda 19 isole e gli interventi che vi leggo ma non stiamo chiaramente ad approfondirli ma sono le semplificazioni di ciò che sta facendo in un territorio concentrato il PNRR quindi incidere sulla trasformazione della mobilità dal punto di vista dei veicoli si sta andando verso il veicolo elettrico o ibrido e pur vero che il mercato ancora come ibrido non sta fornendo chissà quali grandi numeri però ormai la tendenza è quella quindi si parte dalla combinazione tra elettrico e ibrido nelle isole e per il fabbisogno che c'è è più facile poi come abbiamo visto la volta precedente andare a fare un bando aggregato per raggiungere appunto questo obiettivo di acquisto dei veicoli con Consip perché qui già il governo sta spingendo quindi sta facilitando dal punto di vista amministrativo anche il raggiungimento di questi obiettivi con le centrali aggregate dopodiché vengono incentivati perché appunto all'interno delle isole è molto più semplice utilizzarli ma sicuramente anche nelle aree grandi urbane gli scooter elettrici le biciclette a pedalata assistita e monopattini quindi sono tutti incentivi che facilitano anche la sostituzione del veicolo diciamo a emissione di carbonio. Dopodiché anche qui necessario e urgente quindi c'è un finanziamento ad hoc per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico vedete la semplificazione della facilitazione amministrativa non incida solo dal punto di vista delle procedure che sia chiaro. A questi investimenti naturalmente verranno collegate che vedremo per alcuni casi le procedure di semplificazione e vengono anche collegati sicuramente gli aspetti molto importanti dell'organizzazione dei documenti cioè sapete che per questi bandi l'abbiamo accennato la volta precedente le amministrazioni devono rafforzare il proprio personale o comunque devono individuare esperti che sappiano redigere il livello di progetto di fattibilità tecnico economica per come individuato anche appunto dal PNRR quindi non solo investimenti che facilitano semplificano non solo procedure abilitative di tipo ambientale che bypasseranno vedremo in alcuni casi l'attivazione dei procedimenti e dei pareri ambientali o paesaggistici ma anche una diciamo formazione che si rende necessaria per andare a redigere i progetti secondo delle linee guide dei criteri che sono dedicati dal PNRR per il raggiungimento della spesa quindi questo è un aspetto molto importante è uscita anche una linea guida che vi ho citato la volta precedente che serve a redigere quindi accompagnare passo passo la redazione di questi progetti che ripeto possono essere valutati a livello di progetto di fattibilità tecnico economica ancor prima che a livello definitivo laddove appunto sia possibile e lo sarà fino a giugno 2023 appaltare sia l'esecutivo che l'esecuzione dei lavori quindi questo è un elemento molto importante poi chiaramente abbiamo l'intervento quinto energia rinnovabile la 5a che è la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in abbinamento ovviamente a sistemi di accumulo come abbiamo visto prima e dopodiché gli interventi sulla rete elettrica e le infrastrutture per garantire la continuità la sicurezza ce ne abbiamo già delle infrastrutture probabilmente già esistenti ma che comunque devono essere riattate per andare a veicolare quelle fonti energetiche e quindi questo retrofitting significativo sulle infrastrutture di rete vediamo adesso le varie linee ci interessa vederle perché ora faremo il focus sulle semplificazioni amministrative soprattutto di agrivoltaico e fotovoltaico quindi gli obiettivi sono chiari l'incremento della quota di energia dalle fonti rinnovabili la seconda linea appunto potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete perché chiaramente c'è l'aumento della dotazione energetica da fonti rinnovabili la terza linea riservata abbiamo detto all'idrogeno la quarta allo sviluppo locale più sostenibile e la quinta appunto la fornitura competitiva nelle aree maggior crescita questo è importante sono catene di fornitura quindi c'è anche una diciamo una revisione dei layout delle competenze di impresa e andiamo a quello su cui focalizzeremo adesso la nostra attenzione usciamo un attimino dall'investimento del bando delle isole verdi e vediamo gli investimenti e le riforme che si adattano a questa misura 2 della rivoluzione verde e la transizione ecologica allora il primo investimento è lo sviluppo dell'agrovoltaico che è un tema che adesso noi andremo ad approfondire fino a quasi tutta la insieme al fotovoltaico e alle news dei decreti legislativi e dopo di che appunto l'12 le comunità energetiche questo è importante lo sviluppo della comunità energetica ci sono i bandi attivi invito anche a consultarli ma soprattutto è interessante animare le comunità individuare i territori pilota su cui attivare la comunità energetica che è quella che assicura il raggiungimento e l'abbattimento della povertà energetica questo è molto importante cioè la comunità energetica è a sostegno di una comunità che non può attingere in maniera completa e spesso non attingerà mai appunto all'energia quindi tutti i meno abbienti che non possono pagarsi le bollette parliamoci chiaro quindi la comunità energetica sostiene produce e garantisce non solo l'autoconsumo ma il consumo di chi non può fruire del beneficio dell'energetico la promozione degli impianti innovativi l'offshore è molto importante adesso si sta indagando sia l'offshore dell'eolico ma anche si sta spingendo molto sul fotovoltaico flottante non più a terra ma a una certa distanza dal mare che è uno dei dei temi su cui ha lavorato molto la semplificazione amministrativa anche procedimentale è chiaro che è più facile incidere sulla individuazione di aree idonee a terra per potenziare il fotovoltaico e laddove c'è un'agricoltura in dismissione o da rigenerare l'agrivoltaico più difficile e vedremo anche le misure che poi anche il DL 17 la legge appunto 34 di conversione hanno individuato per tutto ciò che è il flottante quindi quello che è messo fuori fuori terra diciamo così sia su superfici appunto di acque dolci che sulle superfici di acque non dolci marine salate il biometano abbiamo visto che lo sviluppo del biometano è molto collegato al programma nazionale di gestione dei rifiuti perché un impianto appunto di biometano è chiaramente è una frazione del rifiuto che entra diventa appunto energia e questo è molto importante e poi appunto la semplificazione degli offshore e degli offshore appunto delle rinnovabili col quadro giuridico perché va rimesso in discussione il quadro giuridico attualmente vigente e poi la nuova normativa quindi il lavoro che si sta facendo effettivamente in questi in questi ultimi mesi riguarda appunto aree idonee e queste e queste misure e questi investimenti allora quello che è lo sviluppo dell'agrovoltaico e vedremo oggetto appunto di vari tentativi e anche ben riusciti di semplificazione chiaramente è quello di ridurre l'obiettivo primario quello di ridurre i costi di approvvigionamento energetico nel settore quindi l'impianto agrovoltaico che in teoria è metà agricolo e metà fotovoltaico di media e grandi dimensioni sappiamo benissimo che per avere una certa resa ed efficienza è più la grande che la media dimensione vedremo che è difficile trovare proposte di impianti agrivoltaici che si trovino diciamo in una taglia di sotto dei 20-30 mega qualcuno c'è perché riesce a già una produzione agricola in corso e quindi produce propone sia l'autoconsumo che una parte da immettere in rete e quindi queste sono le imprese agricole che stanno appunto andando nella direzione di questo grande cambiamento in corso ma ci sono delle imprese che non nascono agricole che in teoria dovrebbero incentivare l'impresa agrivoltaica chiaramente che investono su e su dimensioni che minimo minimo sono dei 70 ai 300 ettari perché poi si deve dimostrare e lo vedremo nell'altro webinar effettivamente il contributo agro all'interno del contributo del fotovoltaico chiaramente lavorare su questo significa abbattere tutte le emissioni soprattutto agricole ma anche in zootecnia che producono appunto il cosiddetto effetto serra quindi la combinazione serve anche a incidere sulle trasformazioni del settore agricolo dal punto di vista sia delle produzioni che delle emissioni ma soprattutto delle emissioni ci sono misure all'interno appunto di questa componente molto importante che facilitano e semplificano il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali ma anche locali ricordiamoci ci sono gli obiettivi dei pers dei piani regionali che concorrono all'obiettivo nazionale è che l'implementazione appunto di questi sistemi ibridi appunto di agricoltura e produzione di energia che però non devono compromettere l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura questo tema è uno dei temi su cui adesso ci soffermeremo perché cosa si intende la compromissione dell'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura ancora non è chiaro siamo tra l'eccesso del concetto di consumo di suolo ci bisogna dimostrare che il frutto voltaico e l'agrivoltaico non consumano il suolo e l'altro limite che non è il consumo ma per il quale l'occupazione appunto non entrando nel merito del consumo ma entrando sull'impatto derivante dall'occupazione questa occupazione con questi pannelli con quali criteri e regole insediative dal punto di vista ovviamente valutate poi nel locale possono essere insediati quindi un tema è l'area idonea quindi che va a sostituire il massivo intervento sull'agricolo e quindi lavoriamo sulle aree idone dall'altro è pure vero che è necessario lavorare sulle aree agricole combinando in maniera coerente sostenibile e gradevole se vogliamo anche dal punto di vista pesaggistico ma anche efficiente dal punto di vista economico e che appunto investe il settore dell'agrivoltaico che è un settore in crescita e sul quale si è lavorato molto dal dl 199 vedremo fino all'attuale appunto il dl 28 il dl 17 e quindi che adesso è la legge 34 in sintesi siamo arrivati a questo quindi è molto importante è uno degli obiettivi che vedete piccolino scritto ma voi avrete il tempo di leggerle queste slide perché ho fatto una specie di compendio di manuale per capire dove siamo e dove stiamo andando installare quindi a regime c'è scritto una capacità produttiva da impianti agrovoltaici da uno è da un gigawatt in più che cosa produce questo questo impianto agrivoltaico produce circa 1300 gigawatt annui quindi con una riduzione quindi con i TEP con una riduzione appunto di emissioni di circa quasi 9 milioni 8 milioni di tonnellate di co2 quindi diciamo l'obiettivo è l'investimento perché ci sono già si sta lavorando sugli investimenti in corso non sono stati varati ancora avvisi e bandi ma se seguite il sito appunto è dedicato alle pnrr i bandi saranno varati tra pochissimo perché ci volevano i criteri ci volevano un po le aridone ci volevano le semplificazioni con l'ultimo decreto legge appunto 17 è chiaro che c'è tutto lavoro preparatorio perché se io devo attuare e attivare un investimento di missione devo avere tutte le precondizioni che sono di tipo pianificatorio non solo quindi più programmatorio cioè so su che cosa devo intervenire e in quali settori e cosa devo andare a sviluppare ma io devo capire come e se sono in grado di svilupparlo quindi se queste sono le ambizioni io non posso candidare una misura che poi come come abbiamo visto fino ad ora abbia tutta una serie di ostacoli prevalentemente fino ad oggi e criticità fino ad oggi riscontrabili nel fatto che comunque non possiamo mettere a disposizione tutto il territorio agricolo e che lo stato e il governo si dovevano impegnare prima di varare diciamo bandi più forti più strong come effetti sul territorio dovevano creare le precondizioni e quindi ad oggi le precondizioni dopo 12 anni dal dm che andremo velocemente e che è ancora attivo sul fotovoltaico e abbiamo dovuto aspettare 12 anni 12 anni per capire se come quali possono essere le aree idonee le regioni le possono stabilire sì non le possono stabilire no c'è stato questo diciamo è questo questo stilicidio a trovare una soluzione che fa scontare quello che all'inizio abbiamo visto essere il mancato decollo del fotovoltaico e delle rinnovabili che ci si attendeva perché le più facili immaginate appunto si diceva all'inizio e si dice ancora che differenza c'è andare a fare un agrivoltaico realizzare un agrivoltaico un fotovoltaico in luogo di altri impianti di fonti rinnovabili anche un biometano è abbastanza complesso anche le biomasse lì scontano tutto un ragionamento sui suoli e sulle qualità dei suoli non sto qua a dirvi quali sono le problematiche finalmente ad oggi gli investimenti potranno essere varati e non sappiamo se raggiungono gli obiettivi ambiziosi che abbiamo visto all'inizio ma sicuramente dobbiamo metterci il cuore in pace anche io da valutatore faccio parte di commissione regionale dobbiamo capire che cosa è preferibile come impatti e che cosa è più gestibile per la salute umana e per l'ambiente e dobbiamo contemperare queste esigenze ad oggi era difficile contemperarle le aree più rapinate sono state le aree agricole e lo sappiamo benissimo oggi sembra meno impossibile ecco la mission sembra meno impossibile del passato e vediamo anche perché la riforma le riforme attivate riguardano appunto le innovazioni introdotte abbiamo visto nelle allegati del codice dell'ambiente che hanno fatto salire di classe gli impianti che dovevano essere valutati dai comuni sono rientrati in altre competenze ministeriali perché praticamente non i comuni o comunque il livello locale o regionale non ha garantito non poteva garantire per tanti motivi la tempistica e gli obiettivi che si è proposto il PNRR quindi salgono a livello nazionale le competenze rimangono residuano a livello comunque locale altre importantissime competenze vedremo una di queste abbiamo visto già a partire al 199 appunto la DILA vedremo cos'è questa sconosciuta e poi varie sostituzioni che sono intervenute nel corso del tempo già da 120 2020 dalle prime modifiche con le riforme che hanno riguardato il codice dell'ambiente e la volta scorsa le abbiamo viste tutte le criticità sono sorte ma già questo si è visto in tutti questi anni già sono state evidenziate col DM rinnovabili che ancora è vigente non è stato mai abrogato anzi è diventata la linea guida insieme al PTE con le quali si sta ragionando e al PNIEC si sta ragionando sulla semplificazione amministrativa appunto conflitti e contraddizioni che ad oggi sembrano in parte risolte con appunto le soluzioni di semplificazione prospettate ma che in realtà appunto permanevano per la quale a certo punto nel 2010 lo Stato che spingeva già sulle rinnovabili dal 2005 2006 non dobbiamo dimenticarlo a un certo punto ha detto ma vediamo di andare a inserire in maniera armonica nel territorio questi interventi e quindi ha dato ha adottato queste linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili perché queste esigenze esigenze ancora viva e che ha dato finalmente e che ha dato diciamo luogo appunto a piani programmi e a semplificazioni nascono tutte da questo DM quindi seguiamolo abbastanza bene ed è vigente sia per la pianificazione regionale sia per appunto le aree idonee sia per le valutazioni a qualsiasi livello sia appunto di competenza regionale che di competenza ministeriale. Il DM richiama molti punti molto importanti di questo decreto legislativo che è continuamente manipolato, trasformato, lo vedremo anche dalle ultime semplificazioni e quindi i punti cardine che sono elementi di valutazione che sono appunto la pubblica utilità di tutti questi impianti. Il rilascio di un'autorizzazione unica e lo vediamo e sono tutte vigenti quindi vedete come la forza di questo decreto ministeriale. Il procedimento unico che è stato poi appunto arricchito di una serie di semplificazioni che abbiamo già visto anche la volta precedente la denuncia di inizio attività cioè alcune opere possono essere fatte, avrebbero potuto essere fatte ora con le varie ridenominazioni e semplificazioni amministrative si potrebbero fare sia in DIA ora si fanno pure in DILA e si possono fare anche in attività libera. Il fatto che comunque la localizzazione è nelle zone prevalentemente primariamente agricole a meno che non vi siano zone che comportino invece una variante urbanistica ancorché non ubicate in zone appunto agricole oppure in zone agricole speciali per cui le varianti comunque potrebbero essere necessarie. e le esigenze, il contemperare le esigenze, questo è uno dei temi fondamentali l'abbiamo visto, salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati e quindi una maggiore efficacia nella semplificazione della semplificazione procedimentale e questo è quello che si è visto fino ad oggi e che ora vedremo più avanti. Dopodiché le regole per l'inserimento nel territorio, quindi le aree, i criteri generali, poi ve lo leggete con calma, le aree escluse, le aree che invece potrebbero essere considerate da privilegiare e quindi già in questo DM si parlava di siti industriali, di aree dismesse, quindi spingeva alla ricerca di queste aree idonee e quindi vi andate a leggere anche il DM entra anche nella qualità del progetto, cioè ciò che si va a proporre e ciò che si va poi a valutare deve rientrare, deve essere appunto contemplato in un progetto che sia qualitativamente buono e che comunque analizzi e valuti tutte le alternative, gli effetti cumulo, quindi è stato abbastanza importante questo DM ancora vive, ancora è valido e sta ispirando la semplificazione amministrativa. dice una progettazione legata alle specificità dell'area, ricordiamo questo aspetto perché poi l'andremo a sviluppare con le linee guida che andremo ad analizzare il 25 maggio prossimo. E quindi la componente, criteri minimi ambientali, le tecnologie sostenibili e quindi apre un mondo, che è il mondo su cui ancora stiamo lavorando, sta lavorando il governo per facilitare il raggiungimento degli obiettivi. Era contenuto, quindi questa esigenza è contenuta non solo nel DM, quindi a redone, qualità dei progetti, semplificazione amministrativa, abbiamo visto anche nel PNIEC, sul quale ci siamo all'inizio appunto soffermati, e nel parere VAS del PNIEC, è molto importante perché il parere VAS, che è poi quello che ha in qualche modo anche condizionato la derogabilità, i limiti della derogabilità anche delle procedure, è stato questo parere molto importante del VAS del PNIEC, che dà anche dei criteri per la valutazione poi dei progetti di fotovoltaico e che sostengono ancora in buonissima parte poi gli aspetti di valutazione che fanno appunto sia il Ministero, sia la commissione PNIEC-PNRR, sia le commissioni regionali. E quindi parla di aree buffer, di utilizzare appunto i pannelli ad alta efficienza, di scongiurare cosiddetto effetto lago, tutta una serie di indicazioni che come vedrete sono delle vere e proprie disposizioni nei pareri ambientali e che vengono appunto tenuti in debito conto nelle conferenze di servizi ambientali. E ci sono tutta una serie di indicazioni che vi invito a leggere, sulle quali per necessità di tempo non ci soffermiamo. Quindi un quadro comune di riferimento, la necessità che ora confluisce negli investimenti, nelle facilitazioni PNRR, adesso finalmente con l'evoluzione di questo quadro comune, quel quadro anche di riferimento normativo che ci dà l'agio di poter intervenire sulle eventuali deroghe che vedremo o semplificazioni e ormai ad oggi, diciamo dopo 12 anni dal DM del 2010, più completo e più rassicurante perché nelle condizioni ex-ante il 199 ed ex-ante il piano di gestione dei rifiuti, ex-ante il PTE, senza questi criteri la crescita delle rinnovabili a tutt'oggi sarebbe stata assolutamente non facilitabile. Ed è stato giusto anche il lavoro fatto dal pubblico generico, dalle associazioni, da chi ha spinto, dalle regioni, dalla conferenza Stato-Regioni. Quindi noi adesso, oltre a percepire in maniera più chiara e a comprendere in maniera più chiara il fatto che ci sia stata una rimodulazione delle competenze e ci sembrava quasi uno scippo fatto alle regioni in maniera di competenze, in realtà no. E confluisce in un quadro più armonico, adesso è più comprensibile, visti anche gli obiettivi da raggiungere. E al di là di ciò che è il nostro personale commento, questi non sono elementi che possono entrare in gioco in questo momento, ci siamo arrivati oggi, ci siamo arrivati un po' tardi, ci siamo arrivati per effetto della guerra, ci siamo arrivati per tante ragioni, ma ci siamo arrivati. E adesso quello che purtroppo dobbiamo andare a gestire in maniera più consapevole è che i tempi, i tempi di questa rivoluzione, perché adesso fluiranno negli uffici tecni, negli uffici comunali, nelle commissioni regionali, arriverà adesso una mole impressionante di istanze, già ci sono, ma con queste procedure che vedremo facilitate, arriveranno molte istanze, molte delle quali però, proprio perché riguarderanno magari retrofitting e modifiche non sostanziali, non comporteranno l'attivazione di valutazioni e di pareri. Quindi da una parte c'è stata finalmente un consolidarsi da parte delle regioni dello Stato su ciò, sulle aree e sui territori su cui intervenire. Dall'altra è pur vero che per i progetti autorizzati, piuttosto che per tutte le modifiche che non si capiva se fossero sostanziali o no, ad oggi per fortuna c'è un'espressione chiara con il 6 bis del 28-21, per le quali si è capito finalmente quali siano sostanziali le modifiche e quali non siano sostanziali, almeno si è arrivato anche a questo dettaglio che era dirimente e importante in procedure attivate di tipo di valutazione ambientale, di valutazione paesaggistica, di conferenze di servizi, capire se prima, dopo, durante la fase dell'ottemperanza, fossero intervenute delle modifiche per cui riattivare un articolo 6,9, banalmente interrogare di nuovo l'autorità competente e dire ma è una modifica sostanziale o no? C'erano almeno 60 giorni di tempo, morti sicuramente perché il procedimento amministrativo ha dei tempi minimi, la valutazione giustamente ambientale ai suoi tempi, minimi massimi, finalmente il governo ha fatto un passo in avanti perché sono tutti DL ovviamente e ha anche non solo cominciato a individuare queste ben dette aree idonee e di aree di prevalente e primaria localizzazione di questa massa imponente di giga di fotovoltaici o comunque di rinnovabili, ma ha cominciato a esprimersi assumendosi la responsabilità ma facendola assumere anche al proponente e al tecnico di individuare le categorie per le quali non intervengono modifiche sostanziali o comunque significative rispetto agli allegati del decreto legislativo 152, tal che poi appunto si vada ad attivare una procedura più semplificata, quindi l'accorciamento dei tempi che ora vedremo e che vi ho anticipato, già questo e per le prevalenti categorie di intervento di appunto efficientamento energetico e abbattimento degli effetti dei cambiamenti climatici, quindi fotovoltaico e agrivoltaico cominciano a come dire a localizzarsi in aree diciamo meno impattanti e meno impattate di quelle agricole laddove sono già hanno avuto un provvedimento di autorizzazione e facciano qualche variante che rientri nelle varianti minime possono già essere realizzati con procedure di comunicazione asseverata o di inizio lavori asseverati, quindi c'è una buona combinazione in questi DL che i più recenti e quindi questo appunto il 199 che abbiamo già analizzato in parte la volta precedente che chiaramente ha un forte legame con la legge 53 che diceva appunto devo dare che delegava appunto il governo per attuare tutta la direttiva del parlamento europeo, c'è la red 2 famosa no? per cui cambiano tutti i tetti, tutti i riferimenti, tutti gli obiettivi e questo atto di delega il governo l'ha assunto con le 199 e questo è molto importante. le aree idonee, quindi nella 53 finalmente si è stabilito di individuarle queste aree idonee e con i vari DL finalmente il governo le sta individuando e le sta facilitando. I criteri sono già ben chiari di individuazione di queste aree idonee perché sono dentro la legge 53, sono dentro il PNIEC ma sono già dentro i PEERS abbiamo detto i criteri ci sono e quelli che discendono abbiamo visto dal DM delle rinnovabili al 2010 e individuare finalmente le procedure abilitative semplificate per questi interventi e questo è fondamentale quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno il 199 ma già il 120-2020 le aveva individuate queste procedure abilitative semplificate e sempre previ intesa con la conferenza con le regioni, quindi stato regioni. Non le leggiamo perché ci dobbiamo focalizzare su quelle principali che riguardano l'agrivoltaico ma ve le ho riportate, ve le ho rinfrescate perché molto spesso con l'emanazione di Contini e DL si perde un po' col conto di ciò che vige, come vige, se è una deroga, se è un aggiornamento o una variante, quindi ho fatto un po' lo sforzo di riportarvele per vedere cosa è successo nell'ultimo anno di fatto. Soprattutto questo ve lo vorrei richiamare appunto l'articolo 20, il decreto legislativo 199-2021 che è la disciplina appunto per l'indicazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti e fonti rinnovabili che disponeva all'emanazione di uno o più decreti, cosa che è stata fatta nell'ultimo diciamo anno da parte del governo quindi è data al governo questa indicazione delle aree idonee, non avviene più secondo diciamo la normazione ordinaria ma dal momento che si sono compressi questi tempi per il raggiungimento dell'obiettivo adesso interviene il DL ma la semplificazione dal 124 nel 2015 è stata sempre attribuita per delega al governo, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Il governo sta diciamo proattivamente attivandosi in maniera più attiva e più frequente però tutto ciò che è la semplificazione è una delega attribuita al governo, ciò non deve quindi turbare purtroppo gli animi di chi come tutti quelli abituati a gestire i procedimenti amministrativi in genere c'è una norma, ci sono dei regolamenti, no, purtroppo la decretazione d'urgenza per le motivazioni appunto che noi adesso stiamo osservando purtroppo è l'unica strada in atto perseguibile, sempre ovviamente sentite le regioni. Andiamo più avanti, le potenze, la disciplina inerente alle aridone, poi lo leggerete in che modo appunto il decreto legislativo attua gli obiettivi della legge 53 che a sua volta individua tutte le misure di attuazione del PNIEC, questo è molto importante. per esempio vi leggo dei commi più importanti, in sede di individuazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, patrimonio culturale è quello che diceva già il PNIEC, nelle more, questo è importante, l'individuazione delle aree idonee appunto di volta e volta decretabili, non le abbiamo decretate tutte e c'è una clausola, appunto un principio di precauzione che appunto segue il COM5 e non possono essere disposte moratorie e quindi sospensioni dei termini dei procedimenti e dei procedimenti di autorizzazione perché sarebbe una sospensiva che non potrebbe portare ad altro, quindi si valuta anche se ancora non abbiamo valutato l'area idonee, non si possono sospendere i procedimenti in atto, questo è molto importante perché comporterebbe l'arresto di tutti gli impianti che sono quasi pronti per essere attuati e le aree non incluse, tra le aree idonee, quelle famose del DM, non possono però essere di tucurre dichiarate non idonee all'installazione di impianti, ma in sede di pianificazione territoriale, ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, quindi siccome non sono nella pianificazione ma ci sono solo i criteri, io non li ho ancora individuate, a tutt'oggi qualora non vi sia la completa individuazione, la valutazione si fa all'interno dei singoli procedimenti e questo è valutato il locale, il sito locale, questo è molto importante sempre per sviluppare le aree idonee e non idonee, sviluppare, scusate, lo sviluppo dell'agrivoltaico andiamo alle aree idonee per le rinnovabili con il DL 172022 nella recente legge di conversione 34, quindi siamo passati dal RED2 che è il 199 2021 che ha tradotto in misure attuative sia il PNIEC quanto la legge 53 passiamo adesso al rafforzamento della semplificazione amministrativa allora nel capo 2 appunto del DL 17 convertito con la legge 34 per la semplificazione e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili abbiamo appunto una modifica che già interviene all'articolo 5 del decreto legislativo 28 che abbiamo citato del marzo appunto 2011 il comma 3 è importante di questo articolo 5 del decreto legislativo c'è una condizione molto importante per la quale nel caso di interventi di modifica non sostanziale poi vedremo quali sono che determinano un incremento della potenza installata quindi le taglie non ci sono più non ci sono taglie e dimensioni quindi parliamo di modifica non sostanziale che già il 28 aveva individuato col 6 bis e la modifica non sostanziale per i fotovoltaici per intenderci era un aumento non superiore del 15% della superficie e del 20% dell'altezza delle impianti qualora appunto non intervengano queste modifiche che sono appunto non sostanziali se appunto non determina un incremento della potenza installata necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata quindi tolte già quelle specifiche si aggiungono anche queste quindi ulteriore elemento di semplificazione la realizzazione delle opere connesse ecco non solo quindi l'opera o l'impianto ma anche gli interventi di connessione e delle opere connesse sono soggette anche alle procedure semplificate di quell'articolo 6 bis che ve l'abbiamo detto quali sono cioè sia l'eolico, il fotovoltaico se leggete appunto l'articolo 6 bis che abbiamo più volte richiamato anche quindi non l'impianto principale con quelle caratteristiche che non dovevano superare il 15% della superficie o il 20% dell'altezza ma anche le opere connesse quindi non solo la rete di connessione ma eventuali altre opere connesse vanno anche esse a procedura semplificata quindi si innova ulteriormente e si spinge ulteriormente fotovoltaico e agrivoltaico comunque già autorizzato in questo caso poi ci sono le condizioni per i nuovi interventi che vanno a di là a semplificata del 6 bis ma in questo caso siamo nella taglia più grossa e gli impianti quelli già autorizzati quindi potrebbero essere gli impianti più importanti poi si interviene ancora nel 3 bis con il sito e l'impianto eolico e si danno le solite dimensioni la distanza, le percentuali che non sto qua a leggervi però si semplifica ulteriormente l'altezza della pala l'altezza del generatore le modifiche sostanziali e non sostanziali e questo sempre appunto per quanto riguarda l'altezza massima dei nuovi aerogeneratori che viene ricomputata ulteriormente rispetto ai precedenti DL e poi è importantissima questa innovazione l'installazione con qualunque modalità questo è importante anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali perché come sapete si lavora molto sulle coperture miste fotovoltaiche e telti verdi per esempio nei centri urbani ma anche fotovoltaico quindi nelle zone A come individuate eccetera eccetera di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici che sono appunto individuati nel regolamento di inizio tipo che ha varato per il 380 il governo non dovete dimenticarlo eccetera eccetera o su strutture manufatti fuoriterra diversi dagli edifici e qua si comprendono quindi c'è la logica poi per andare a trasportare i benefici di una semplificazione su impianti e opere connesse quindi strutture manufatti ed edifici già esistenti questo per spingere il turismo all'interno dei comprensori sciistici perché sapete che c'è una bella misura di incentivazione del turismo del 108-2021 che è la governance spinta del PNRR che spinge al turismo e quindi non solo nelle zone A ma anche all'interno dei comprensori sciistici la realizzazione delle opere funzionali alla connessione della rete elettrica quindi si estende anche questa facilitazione e semplificazione alle connessioni agli adeguamenti sono considerati interventi di manutenzione ordinaria quindi escono fuori dal campo delle procedure abilitative che entrano nell'attività libere quindi questo è fondamentale è un passaggio importante che semplifica ulteriormente sia le zone A ma soprattutto le zone che sono comunque che rientrano appunto nelle zone che sono appunto normate dal 1444 le strutture sciistiche e cosa sono? Sono servizi servizi localizzati all'interno di un PRG quindi ci sta questa innovazione io ho visto che il tempo sta passando dico vi ho segnalato gli aspetti più significativi ultimo dei quali riguarda e mi spingerò a leggere queste ultime slide che non ho avuto il tempo mi dispiace di riportarla nei contenuti ma riguardano tutti gli interventi dell'agrivoltaico e anche sulle serre e sugli impianti agricoli che è diciamo la rivoluzione copernicana più importante e anche sulle aree idone delle appunto che aumenta il numero delle aree idone individuate con la diciamo la 199 che contemplava pure i siti dell'RFI però io vi invito appunto ad approfondire ancora queste slide sulle innovazioni appunto nel campo dell'agrivoltaico compresi i film fotovoltaici appunto posti sulle superfici anche curve delle serre ciò che se apparentemente ciò che rappresenta veramente una buona facilitazione e semplificazione e che quindi utilizza impianti esistenti questa volta senza consumo e occupazione ulteriore di suolo e rafforza sia l'efficienza energetica degli impianti legati all'agricoltura e al serricolo e anche alla possibile utilizzazione oltre l'autoconsumo e quindi all'immissione in rete io mi fermo so che purtroppo le informazioni sono tante però vi ho lasciato a testimonianza questa slide ho visto che ci sono tre sì delle domande Fortuna Riccio che dice più che una domanda è una costatazione ciò che spaventa sono le modalità di controllo che saranno implementate per controllare il tutto il settore civile ha già abusato con il bonus allora la semplificazione è anche una semplificazione che banalmente semplifica il lavoro delle amministrazioni mi spiego laddove le amministrazioni non vengono chiamate direttamente a esprimere dei pareri ok per esempio il caso della DILA e c'è un'assunzione di responsabilità diretta da parte del proponente con asseverazioni precise da parte dei tecnici per le modifiche non sostanziali l'attività di controllo pertiene sempre alle autorità che il parere e l'autorizzazione ambientale hanno individuato per il controllo quindi se c'è l'autorità competente rimane l'autorità competente se c'è l'ARPA rimane l'ARPA se ci sono altri enti preposti al controllo rimangono quelli quindi le preoccupazioni invece sono appunto di ben altra natura che giustamente pertengono il monitoraggio ambientale e la verifica delle condizioni che risultano ottemperate nell'autorizzazione finale la cosa più interessante sì potremmo farlo un riassunto potremmo effettivamente poi d'accordo con formez fare una pubblicazione tematica niente di strano potremmo farlo assolutamente e anzi in questi giorni ci possiamo ripromettere che di qua a un mesetto facciamo vedere tutto questo progresso e questa tavola sinottica delle modifiche intervenute assolutamente purtroppo la velocità con cui si emettono i DL non danno il tempo come vedete se scorrete poi le slide vi renderete conto di ciò che sta avvenendo anche il 5 maggio c'è stata una proposta di un DL aiuti che sta per uscire a giorni quindi rispetto a quello che vi ho detto io e che è avvenuto nel giro di sei mesi c'è ben altro sì e questo sì ci ripromettiamo di farlo sicuramente Federico Sandro nella regione prima Piemonte si è approvato e per è vero sì siete una delle poche regioni comunque Piemonte è una delle poche regioni che citavo all'inizio che si è dato non solo i criteri ma le ha proprio individuate le aree i siti non idonee con la classica tripartizione che è quella che ormai stanno facendo tutti i piani regionali con le aree escluse con le aree compatibili e con le aree invece infatti in una pubblicazione che ho fatto per Formez due anni fa ho proprio citato l'esperienza della regione Piemonte con altre regioni l'ha fatto anche la Lombardia e quindi devo dire brave devo dire in questo senso la regione Piemonte può cooperare con il livello anche degli enti preposti a rilascio dei pareri che non sempre sono di competenza regionale allora vediamo con la DILA sono chiamati appunto anche gli uffici comunali non si esprimono ma verificano e attestano che siano state rilasciate le asseverazioni necessarie esiste un modulo per la compilazione questo comunque viene viene fatto nei vari uffici è successo come come succede quando intervengono la modulistica viene fatta spesso dagli uffici dai SUAP non esiste la presentazione di DILA la presentazione di DILA è un'istanza che attiva il proponente avvalendosi del 6 bis appunto comma 4 allora lui assevera quanto previsto nel comma 4 del 6 bis e produce quella documentazione che ritiene appunto è pertinente all'attivazione della propria istanza per cui c'è l'articolo 6 bis che dice cosa va asseverato nella relazione fatta dal tecnico dal professionista appunto del proponente e appunto quanto va asseverato anche in ordine al rientro della fattispecie quindi si attiva di parte non c'è un modulo ancora non ce n'è è chiaro che gli uffici sicuramente potranno come è stato fatto per DIA SCA SCIA e quant'altro attivarsi per la redazione della modulistica le linee guida per le amministrazioni relative a tale progetto sono disponibili in rete reperibili a tale progetto forse al lavoro che ha fatto Formezza non capisco la domanda poi magari se separatamente Fortuna Riccio la vuole specificare un po' meglio risponderemo perché non riesco a capire a quale progetto si riferisca io vi chiedo scusa per la numerosità delle informazioni che purtroppo ancora avrei avuto più tempo per focalizzare il resto delle slide però c'è tempo le slide appunto ripeto sono state redatte per darvi il massimo dell'informazione il progetto Delivery sì poi su questo risponderà direttamente la collega in linea io vi ringrazio ringraziamo ringraziamo noi per la chiarezza i partecipanti hanno sottolineato anche l'efficacia della presentazione sì decisamente più che slide sembrano un manuale però credo che se ne gioveranno di questa cosa le domande eventuali domande che non hanno trovato risposta io vi ricordo che la l'architetto Liuzzo sarà con noi anche tra due settimane quindi i temi ricorreranno temi in qualche modo comuni anche con con quelli trattati oggi e questo per sottolineare che se dalla presentazione o dal dalla consultazione delle slide dal non so se volete riguardare la registrazione se dovessero emergere quesiti dubbi potete sia scrivere all'indirizzo di posta quindi a deliveryunit chiocciolaformance.it e possiamo girare all'architetto Liuzzo le vostre domande quindi possono diventare anche uno spunto di riflessione per il prossimo webinar altrimenti sappiate che potete porle di nuovo o riproporle in chat tra due settimane detto questo io ringrazio tutti per la partecipazione ringrazio perché è Toliuzzo e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento alla prossima volta buona giornata a tutti a ti cari saluti grazie